Giulio Ciccone può vincere la Maglia Pua al Tour de France. La Bruzzese della Lidl Trek si è gettato in fuga nella quattordicesima tappa, vincendo due Gran Premi della Montagna di prima categoria che gli sono valsi 20 punti e adesso è salita a quota 42 punti. Attualmente Ciccone è quarto nella classifica scalatori, in testa c'è Wiengegaard a quota 54 punti a pari merito con Poules, anche lui a quota 54, terzo Pogacar a quota 48 punti e quarto proprio Ciccone a quota 42. Sicuramente Ciccone nelle prossime tappe si getterà nuovamente in fuga per vincere altri GPM ma i suoi avversari principali sono proprio Wiengegaard e Pogacar, infatti negli ultimi Tour de France chi ha vinto il Tour ha sempre vinto anche la Maglia Pua, lo scorso anno infatti l'ha vinta Wiengegaard e nelle edizioni del 2021 e del 2020 l'ha vinta Pogacar.